3-0 contro Pomi Casal Maggiore, prima parliamo di campionato poi parliamo di Champions, ha vinto 3-0 contro Pomi Casal Maggiore iniziando nel modo migliore il campionato. Questa partita tra l'altro la rivedrete sul canale 86 del Digitale Terrestre giovedì sempre a partire dalle ore 21. Intanto ascoltiamo a fine gara di Casal Maggiore il libero di casa Imma Sirressi. Siamo con il vicecapitano della Pomi Casal Maggiore, Imma Sirressi, come commentiamo questo 0-3 casalingo? È una gara d'esordio complicata per la Pomi Casal Maggiore che ha tutte le attenuanti del caso, ci sono defezioni e c'è da trovare degli automatismi che al momento non ci sono ancora. Sì, non siamo partite benissimo diciamo, però non mi preoccupa, sì dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo trovare l'intesa, dobbiamo trovare l'affiatamento perché c'è chi è arrivato da una settimana, c'è chi da pochi giorni quindi c'è bisogno di... gli altri anni siamo abituati che già ci conoscevamo e partivamo alla grande, adesso è diverso, quindi c'è bisogno di un pochino più di tempo per trovare tutti i meccanismi giusti però è lunga, è lunga la strada, quindi su col morale. Quando secondo te potremmo vedere una Pomi Casal Maggiore innanzitutto completa? Io questo non lo so, non lo so sinceramente quando arrivano le altre, però noi comunque dobbiamo lavorare ogni giorno anche con quelle che ci sono per trovare proprio l'intesa che ti dicevo prima. Ci sono state tante difficoltà in ricezione per la Pomi Casal Maggiore, lo abbiamo visto anche nel precampionato, è uno dei fondamentali su cui si dovrà lavorare di più? Sì, ricezione, sì, tanti problemi di ricezione, ma non solo lì, un po' su tutti i fondamentali, abbiamo battuto anche un po' pianino, non abbiamo forzato, non abbiamo ricevuto troppo bene, tutto, un po' tutto dobbiamo lavorare, però sono fiduciosa quindi non mi preoccupo più di tanto. Può essere che oggi ci fosse anche un po' di tensione in voi, era la prima, un allenatore nuovo, tante compagnie di squadra nuove che devono ancora inserirsi? Secondo me sarà un po' così per tutte, perché anche di là, sì, hanno giocato meglio di noi, però anche loro hanno avuto momenti di confusione. Un po' tutte le squadre sarà così per me, è il primo anno che cambiamo, stravolgiamo tutto, quindi non dobbiamo fasciarci la testa, passo dopo passo, pensiamo alla prossima. Era immacolata Sirressi, solo il nostro regista la chiama immacolata, ormai nemmeno il fidanzato penso la chiami, la conosciamo come Imma. In Ungheria, ieri sera, primo turno di Champions, vi dicevo, per il Limoco contro il Linamar, netta vittoria per 3-0, ormai siamo abbonati. Sentiamo al termine dalla pagina Facebook del Limoco Volley Conegliano le parole di Daniele Santarelli. È stata una buona partita, sono contento, abbiamo ipotecato anche la gara di ritorno a mio avviso, siamo stati attenti e abbiamo, a mio avviso, battuto molto bene. Ho chiesto alle ragazze di fare una prestazione ordinata, semplice ma perfetta nella semplicità e così è stato. Secondo me hanno giocato davvero bene, sono state molto in gamba e adesso aspettiamo la gara di ritorno perché vogliamo il passaggio del turno a tutti i loro.